La pandemia ha cambiato la nostra vita e soprattutto ha cambiato il nostro modo di concepire la casa e di vivere le mura domestiche. Sono Silvia Rossi, sono un'agente immobiliare e mi rivolgo proprio a te, che in lockdown hai trovato tutti i difetti di casa tua e desideri cambiarla. Vieni, ti faccio alcune proposte. Vuoi abitare nel Tridente, la zona più pregiata del centro storico di Roma? Bene, ho un elegante appartamento con affaccio su Piazza del Popolo e sono 115 metri quadri di pura eleganza. Oppure invece ami la privacy e la sicurezza, allora ti consiglio una bella villa con piscina poco fuori il raccordo e 5.000 metri quadri di parco. Potresti anche invece scegliere di andare sul classico e quindi acquistare un attico con terrazza nella splendida Monte Verde Vecchio. Se hai deciso di cambiare vita e di cambiare casa, affidami la vendita del tuo immobile e lascia che ti aiuti in questo momento di cambiamento. Sono Silvia Rossi, la tua agente immobiliare.